Notte di Natale in via Calamandrei, siamo con il dottor Pino Lessa, Giuseppe Lessa, direttore dell'Automobile Club di Taranto. Una tradizione che anche quest'anno fa sentire la sua forza, perché effettivamente il Natale ha bisogno di queste iniziative. Un momento di distrazione e di aggregazione, in un momento difficile per la città. Certo, questa iniziativa è nata come una scommessa quattro anni fa e chiaramente ci teniamo che questa tradizione continui negli anni e quest'anno stiamo andando in piedi da questo nostro. Io dico compito perché è giusto che le pubbliche amministrazioni contribuiscono a far vivere la città con queste piccole manifestazioni dove la gente si riunisce e può passare un momento lieto e felice. Sono contento di averlo fatto ancora di più perché quest'anno mi pare che Taranto sia una città morta. Non c'è niente, proprio niente, quindi queste piccole manifestazioni aumentano di valore nel nulla che esiste. Se pensiamo che girando il centro, non le periferie della città, mancano le luminarie, manca tutto, il clima di Natale non si sente, non si avverte. Ripeto, ora è giusto una chiusa, una parentesi perché lo spirito della trasmissione è altro, dobbiamo sorridere. Però non possiamo nascondere la polvere sotto il tappeto e allora benvengano delle iniziative come questa che vedono insieme enti e società civile e associazionismo. Infatti questa è stata la molla che ci ha spinto a farla anche quest'anno e a questo punto cerchiamo di continuare nei prossimi anni. Io di sera sono stata Martina Franca con mio nipote, è veramente un altro mondo. Parliamo di 30 km di distanza, non di 700 km. Città Topolino, insegne, luci, luminarie, c'era di tutto bellissimo, dove i bambini sono divertiti veramente, quindi mi dispiace per tanto in questa situazione desolante in cui vive. Però intanto godiamoci questo Natale, godiamoci note di Natale in via Calamandrii. Assolutamente sì, io approfitto e faccio l'augurio a tutti i tarantini perché è giusto che tutti quanti possiamo passare almeno un momento felice. Grazie. 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 Grazie.